Come sta circondando il mondo delle utility? Abbiamo visto che questa spinta verso questa tecnologia guidata all'inizio dalla decarbonizzazione ma ora dalla competitività della tecnologia stessa sta portando a un aumento dell'elettrificazione dei consumi. Questo è molto importante anche in particolare con quella che è l'ottica europea di cercare di aumentare sempre alla ricerca della decarbonizzazione l'aumento dell'utilizzo dell'energia elettrica come fonte primaria da un punto di vista energetico. L'altro grande passaggio che abbiamo visto è la digitalizzazione. Non c'è dubbio che la digitalizzazione in generale sta avendo effetti su qualsiasi settore. Ovviamente le utilities non sono da questo punto di vista esenti, anzi la devono cavalcare, la devono sfruttare e la devono portare a livello di rapporto con la clientela. In particolare il cliente sta cambiando, si sta abituando ad avere un tipo di rapporto diverso con chi fornisce prodotti e servizi. Gli utilities devono avvicinarsi al cliente in tutte le mani possibili, la digitalizzazione è sicuramente uno strumento. Il resto dell'intervento in particolare mio oggi è stato focalizzato sulla flessibilità, il concetto di flessibilità che viene fuori da molto banalmente e questo enorme sviluppo delle rinnovabili, dal fatto che le rinnovabili come sappiamo sono fonti alla fine intermittenti perché dipendono dalla risorsa naturale che le spinge e i buchi di generazione sono buchi di generazione che fino ad oggi sono sempre stati riempiti dalla generazione tradizionale. Come cercare di evitare di utilizzare generazione tradizionale per riempire buchi, visto che la generazione tradizionale utilizzata a spot diventa eccessivamente costosa facendo intervenire anche strumenti di flessibilità e quindi abbiamo analizzato insieme quella che è la flessibilità e tutti gli strumenti di flessibilità che l'Enel vede nel futuro. Si parte dal più semplice demand response, si va a demand side management, si arriva al vehicle to grid, dove la grande differenza il primo è un on off di un carico sulla rete, il secondo caso si elabora, si mettono su più fonti di guadagno per chi opera nel mercato e si utilizzano grosse batterie che vengono infilate all'interno di un ciclo produttivo importante il terzo è il vehicle to grid, dove l'investimento sulla batteria non lo fa più la utility ma lo fa chi compra la macchina a questo punto si parla di mondo sempre più connesso perché queste automobili per essere connesse alla rete e caricarsi hanno bisogno di una intelligenza dietro nel momento in cui non vogliamo che siano soltanto delle macchine che utilizzano l'energia ma la ridiano in qualche maniera sotto qualche forma alla rete stessa. Ecco noi come Enel X ci stiamo concentrando su questi tipi di investimenti, tutta la flessibilità si parte da un concetto molto semplice per arrivare a concetti molto più complessi. L'estremo di tutto questo qui è il cosiddetto home to grid quindi finalmente una casa connessa in tutti i sensi dove esiste un fotovoltaico sul tetto, esiste una batteria stazionaria esiste una macchina elettrica, un contatore elettronico, una connessione alla rete sempre indispensabile tutto questo qui connesso uno con l'altro che permette alla casa, quindi all'aspetto più granulare del consumo di partecipare al sistema elettrico. Grazie a tutti.